ci sarà anche l'apostasia della Chiesa, della nostra Chiesa cioè l'arrovina, l'inizio dell'arrovina del potere della Chiesa non dei veri missionari, dei veri sacerdoti parlo del potere del Vaticano e come avete visto in questi giorni che sono emersi, sono venuti alla luce grazie a degli uomini coraggiosi in Germania, negli Stati Uniti, in Austria, in Irlanda, in Italia sono emerse tutte quelle nefandezze che ci hanno nascosto per decine e decine di anni determinati poteri del Vaticano che omettevano, nascondevano i delitti che alcuni di questi sacerdoti, non tutti, però molti consumavano contro i nostri poveri bambini oggi io sono qui anche e dopo lascio a voi le vostre considerazioni e le vostre domande su tutti i temi che abbiamo affrontato per manifestare il mio dissenso molto forte e molto deciso alla mancanza di umiltà e alla forte arroganza che sta manifestando il potere della Chiesa nei confronti di chi accusa alcuni suoi alti prelati del delitto di pedofilia invece di fare una grossa riforma all'interno della Chiesa di ammettere le colpe in parte ammesse dal Papa Benedetto XVI ma attorniato da una cloaca di cardinali che cercano con arroganza di proteggerlo e di proteggere questa figura istituzionale come se perdesse di immagine o di potere nel momento in cui si ammettono determinate colpe non fanno altro che peggiorare la situazione l'ultima notizia ve la leggo è questa quella che la notizia che divulga la lettera che il cardinale Angelo Sodano che rappresenta il potere del Vaticano essendo il decano dei cardinali del collegio cardinalizio dove in piazza San Pietro di fronte a 150.000 persone e a tutte le televisioni del mondo si permette di dire questo Buona Pasqua Santo Padre la Chiesa è con te dolce Cristo sulla terra la liturgia della Chiesa ci invita a una santa letizia anche se scende la pioggia su questa storica piazza il sole si risplende sui nostri cuori ci stringiamo a lei roccia indefettibile della Santa Chiesa di Cristo le siamo profondamente grati per la sua fortezza d'anima e per il colaggio noi ammiriamo il suo grande amore che con cuore di Padre fa proprio le speranze di tutta l'umanità di oggi in modo speciale dei poveri e dei sofferenti oggi tutta la Chiesa desidera dirle in coro Buona Pasqua amato Santo Padre la Chiesa è con lei con lei sono i cardinali i suoi collaboratori della Curia Romana con lei i vecchi che guidano le 3.000 circoscrizioni ecclesiastiche i 400.000 sacerdoti come lei ci ha insegnato Giovedì Santo citando San Pietro Gesù insultato non risponde con insulti e ci si soccorre nelle prove del mondo ora io dico no nessuno sta insultando il Santo Padre stiamo solo dicendo la verità la verità che la Chiesa Cattolica Apostolica Romana ha tradito Cristo e adesso ve lo dimostro guardate grazie a tutti 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 Il dolce Cristo sulla terra. Questo è il crocifisso, con questo crocifisso ammazzavamo la gente, milioni di persone. E quante persone abbiamo mandato al rogo perché avevano un'idea diversa, perché pensavano liberamente. Questo è il dolce Cristo sulla terra. Pensate voi che se il Vaticano non avesse il potere che aveva nel 1500, non ucciderebbe ancora? Guardate che cosa facevano ai poveri prigionieri il dolce Cristo sulla terra. Questo facevano. Io li avevo avvertiti, non provocatemi, perché vi anniento nel nome di Dio questi delinquenti, assassini, vigliacchi. Cardinale Sodano. Lei è un'ipocrita. E lo sa. Benissimo. Come potrete sfuggire all'ira che vi sovrasta? Delinquenti. Guardate. Questo video lo farò vedere in tutto il mondo. In tutte le città che visiterò della terra, finché avrò salute. Farò vedere i crimini del dolce Cristo sulla terra. Io sono la voce che grida nel deserto e non mi fermerà nessuno, solo se mi uccideranno. E la gente in piazza San Pietro con le bandierine. Ipocriti. Razza di vipere. Alleluia. Pensate che sarete perdonati? Cardinali e Vescovi? O che Cristo si è dimenticato di questi delitti che avete commesso? Assassini. Il dolce Cristo sulla terra. E Giordano Bruno? Dove lo mettiamo? Nel dimenticatoio. E Giovanna d'Arco? Che facciamo? Dopo che la bruciamo la facciamo pure santa. Vediamo! 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 Sì, sì, sì. Nel cavo dell'OIOR della banca Vaticano c'è il tesoretto di Luciano Moggi, quello procuratore della Juventus, 150 milioni di euro. Leggete, leggete. Che nemmeno voi sapete queste cose, che siete ignoranti. Leggete. Il l'OIOR ha 5 miliardi di euro depositati. Nella sua banca. Cifre ufficiali. Il dolce Cristo sulla terra che aiuta i poveri. Con quei 5 miliardi di euro si possono sfamare tre volte la fame nel mondo. Non una, tre volte. Il Vaticano non è soggetto a nessuna legge antiriciclaggio. Cioè voi se dovete versare 10 mila euro in banca siete controllati dalla direzione investigativa antimafia, da tutte le istituzioni italiane. E questi delinquenti no. Loro non pagano le tasse. Le paghiamo noi per il dolce Cristo sulla terra. Ve l'avevo detto, non provocatemi. Adesso vi anniento con una campagna di stampa che voi non vi potete nemmeno sognare. Ho avuto il permesso di Gesù Cristo. Quindi da domani mi scateno. Sarò il persecutore di tutti i preti sulla terra, tranne i santi, quelli che fanno del bene. Ma quelli che non fanno niente o poco li perseguiterò, come loro hanno perseguitato gli altri. Il dolce Cristo sulla terra. Questo signore è amico di Salvatore Riina e di Bernardo Provenzano. Pol Marcinkus era il braccio destro di quel Papa che vogliono fare santo. Santo, Papa Voitila, dopo che ha collaborato con la mafia, ha collaborato con Cosa Nostra, Papa Voitila. Quindi bisogna votare no alla santità. Bisogna dire, delinquente anche tu. Vedete dov'è? Marcinkus, eccolo. E' il braccio destro di questo che vogliono fare santo. Eppure dentro la chiesa ci sono dei santi. Ed è vero, io li riconosco. Questi due che vedrete sono due sacerdoti della chiesa cattolica. E di fronte a loro m'incinocchio, padre Zanotelli. Don Ciotti. E questo è un altro uomo di chiesa, Borsellino. Anche i laici devono essere esaltati. I giusti. Questo non è un giusto, è un povero disgraziato. E io devo vedere questi bambini ridotti così e la chiesa di San Pietro piena di ori. Maledetti. Maledetti sarete quando ritornerà il Cristo. Vi schiaccerà la testa. Delinquenti. Provate a uccidermi adesso. Farete la fine peggiore che poi non vi potete nemmeno sognare. Ipocriti. Razza di vivere. Il dolce Cristo sulla terra. Ma a chi vogliono prendere in giro? Non siamo mica tutti cretini. Eccolo. Questo è quello che dico io. Lo dico a loro, ai preti. Spero che non ci sia un prete in sala. Perché non può replicarmi su niente. Poveri bambini stuprati, violentati. E si sente insultato il Papa. Invece di dire scusate, facciamo schifo, chiediamo perdono a Cristo. Oppure veniamo accusati noi di essere una setta. Quando sono loro la più terribile setta della storia del mondo. Adesso vi faccio vedere che cosa più avanti nel filmato la fine che farà la cupola di San Pietro. C'è, in questo filmato. Adesso mi arresteranno per terrorismo. La fine che farà la cupola di San Pietro. La fine che farà la cupola di San Pietro. La fine che farà la cupola di San Pietro. Grazie a tutti. 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 Avete mai sentito dire un Papa, io vi annuncio nel nome di Dio, io vi maledico, quei venditori di armi, nel nome di Dio siate maledetti, abolite le armi nucleari. Io che sono il rappresentante di Cristo in terra vi accuso che sarete giudicati severamente. L'avete mai sentito dire una frase del genere? No, e non la sentirete mai dire, perché il Vaticano ha azioni nella vendita delle armi. Quindi il Papa non può andare contro il Papa, così è stato definito oggi il Papa. Il dolce Cristo sulla terra. Io non mi permetto di mandare maledizione al Papa. Io dico solo guai a voi. guai a voi, ragazzi, guai a voi, la pagherete cara. striscerete di fronte al Cristo come serpenti. chiederete perdono e non lo riceverete. Farete la morte seconda, voi e tutti i vostri miserabili adepti, ipocriti, delinquenti, criminali, assassini. Sono io che vi accuso nel nome di Dio. Sono io che vi accuso nel nome di Dio. ma il tempo è venuto, questo è il nostro tempo, il tempo della giustizia divina. Ma il tempo è venuto, questo è il nostro tempo, il tempo della giustizia divina. ma il tempo è venuto, questo è il nostro tempo, il tempo della giustizia divina. Padre Adonai. Purificazione necessaria, indispensabile. Purificazione necessaria, indispensabile. Purificazione. 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 Eccolo, la fine che fa, il dolce Cristo sulla terra. Eccolo, la fine che fa, il dolce Cristo sulla terra. Eccolo, la fine che fa, il dolce Cristo sulla terra. Eccolo, la fine che fa, il dolce Cristo sulla terra. Eccolo, la fine che fa, il dolce Cristo sulla terra. Questo documentario è stato fatto dai fratelli Santa Maria. Come ti chiami di cognome? Santa Maria, in particolare da Maurizio. Un applauso. I miei fratelli Saturniani. I miei fratelli Saturniani. Va bene, possiamo sfumare per chi questo documentario, credo che lo metterò in internet. Ecco, sono qua, potete accendere le luci. Il mio non era uno sfogo. Ho detto la verità. Se c'è qualcuno che vuole smentirmi, si faccia avanti. Ma lo dimostra con i fatti, nel merito. E mi dica, non è vero, le tue accuse sono infamanti. Non è vero che la Chiesa ha riciclato denaro sporco con la mafia. Non è vero che nella Chiesa ci sono predi pedofili. Non è vero che l'inquisizione italiana e spagnola della Chiesa cattolica ha ucciso e torturato milioni e milioni di anime. Non è vero che la Chiesa è piena di ricchezze. Non è vero che nella Chiesa castrano i poveri preti, invece li dovrebbero fare sposare, come tutti gli esseri umani. Ditemi questo, però me lo dovete dimostrare. Se non lo dimostrate e fate solo chiacchiere da salotto, mi si può ribadire, ma Padre Pio? Padre Pio è un santo. Tant'è vero che è stato perseguitato anche lui dalla Chiesa. Mica l'hanno perseguitato il popolo che amava Padre Pio. Quindi questa istituzione deve essere distrutta, cancellata dalla faccia della terra e deve rinascere la Chiesa vera, quella di Cristo. Sempre cattolica, mica io voglio un'altra Chiesa. La stessa, ma deve cambiare. E se non cambia, allora il Padre Adonai la distruggerà. Gesù gliel'ha detto alla vecchia Chiesa. Finché non direte, benedetto colui che viene nel nome del Signore, non mi vedrete più. E io lo dico alla Chiesa cattolica, finché non vi pentite, Cristo non vi perdonerà. e un'altra Chiesa,